Si fa presto a dire rivoluzione islamica, ma ogni volta che parliamo anche oggi, nel 2022, dell'Iran, non si può non pensare a come si è arrivati all'Iran attuale. E non mi riferisco esclusivamente all'Iran come stato canaglia con delle armi nucleari non interamente dichiarate. No, mi riferisco a un Iran che è diventato l'esempio moderno di una teocrazia portata prima nel ventesimo e poi nel ventunesimo secolo. Sì, certo, è chiaro che l'Iran non è l'unica teocrazia di questo pianeta. C'è la città del Vaticano, che molto 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 in piccolo è effettivamente una teocrazia, dove il diritto cosiddetto divino, cioè derivante da una scrittura ritenuta sacra, ha la preminenza su tutto. E' quello che avviene ovviamente anche in Iran, dove il velayate fakhi, cioè la preminenza del dottore della legge inteso come legge coranica, ha ovviamente l'imprimatur di poter dettare le norme positive che esistono ancora oggi in quel paese. Ma come si è arrivati a questo Iran? A un Iran in cui il Parlamento è sostanzialmente controllato dagli imam? Come si è arrivati a un Iran il cui presidente non presiede veramente la Repubblica, ma è un organo, il suo ufficio, di rappresentanza all'estero e di coordinamento dell'attività parlamentare? Ma nulla più. Come si è arrivati a tutto ciò? Ha una doppia forza armata, l'esercito vero e proprio, e una milizia, quella dei guardiani della rivoluzione, poi chiamati anche Pasdaran, che sostanzialmente detta non solo le scelte in tema di politica militare, ma soprattutto controlla la politica interna. Come ci si è arrivati? Beh, bisogna risalire parecchio indietro. A circa mezzo secolo fa. 1971 è l'anno in cui a Teheran, ma in tutto l'Iran, Iran che poi è il nome moderno che persiste da meno di un secolo della antica Persia, e dicevamo che il 71 è l'anno in cui l'Iran festeggia, in grandissimo stile, i 2500 anni dell'impero persiano, la monarchia storicamente più lunga, più longeva nella storia umana. L'impero persiano, se ci pensiamo, magari ci ricordiamo di Ciro, di Artaserse, di Cerse, delle guerre con le polis greche, magari qualcuno si ricorderà anche dell'anabasi di Senofonte, perché effettivamente tratta anche dell'impero persiano. Qualche ragazzo più giovane forse l'associerà, la Persia, ai film della serie 300, alle relative graphic novel. Va bene, si può accettare anche quello. 1971, come detto, l'Iran imperiale festeggia i 2500 anni della monarchia. Una monarchia che, a partire dal primo dopoguerra, ovviamente dopo, quindi la grande guerra, la prima guerra mondiale, vede l'affermarsi di una nuova dinastia. Decade la vecchia dinastia Qajar e al suo posto si afferma una dinastia, potremmo dire, quasi di importazione, quella dei Pahlavi. Reza Khan Pahlavi è il comandante della brigata cosacca. Non è esattamente un imperatore, è un generale. Comanda un'unità d'élite, appunto la brigata cosacca, che è la punta di diamante di tutto l'esercito imperiale. E funge, nel caso, anche da guardia imperiale. Reza Khan Pahlavi organizza un colpo di stato e stromette la dinastia Qajar. Si fa proclamare dall'assise tanto del clero sciita, che ha sempre una grandissima influenza, quanto dei nobili delle tribù dell'Iran, nuovo Shah. Shah è il termine parsi per la parola che noi utilizzeremo come imperatore, o kaiser per i tedeschi, o khtar per i russi. È sempre quello il significato. Re dei re. La capacità di poter regnare su un vasto territorio che comprende popolazioni non solo di origine persiana, ma anche di origine caucasica, perché ci sono azeri, ci sono armeni. Su popolazioni Pashtu, soprattutto nell'estremo oriente del paese, popolazioni di derivazione indiana, ci sono anche degli ebrei in Iran in quel periodo. Ecco perché si parla di impero. Prima persiano e poi iraniano. Reza Khan Pahlavi è un monarca, potremmo dire, moderno. Manda il suo figlio, Muhammad, a studiare in Europa, in Francia, soprattutto in Svizzera. Lo vuole ben educato all'occidentale, vuole che diventi un modello per il futuro. Ma il regno di Reza Khan viene interrotto nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Con l'invasione dell'Unione Sovietica da parte della Germania nazista, all'Iran è chiesto di schierarsi. Gli inglesi, che hanno fortissimi interessi in Iran, d'altronde la British Petroleum ha una filiale iraniana, hanno la necessità di sapere che i pozzi di Abadan restino in mani sicure. Non solo. C'è una ferrovia lì vicino, quella che porta a Baghdad, e c'è un canale di rifornimenti che dall'Oceano Indiano deve portare, attraverso il Caucaso, in Unione Sovietica, per aiutare Stalin, che sta lottando contro Hitler. Il problema è che nel frattempo il Libano e la Siria si sono parzialmente evolute rispetto al controllo della Francia di Bichy. E anche lì, a un certo punto, gli alleati devono intervenire. L'Iraq, che è vicino di casa dell'Iran, è vittima di un tentativo di sommossa filo tedesca per rovesciare gli equilibri e far uscire l'Iraq dal conflitto e anzi portarlo nella sfera di influenza dell'asse. E anche lì intervengono gli inglesi. L'Iran? L'Iran è stretto tra la morsa, perché l'Iran storicamente non ha mai accettato l'influenza russa a nord e ha sempre tollerato, solo per una questione di affari, l'intromissione degli inglesi. Fatto sta che lo stesso Reza Khan viene convinto, diciamo così, a viva forza, da sovietici e britannici ad abdicare. È quasi un colpo di Stato. Ma è un colpo di Stato che viene fatto in maniera quasi incruenta proprio per tenere l'Iran entro la sfera di influenza degli alleati e garantire i rifornimenti all'Unione Sovietica e gli afflussi di greggio all'impero britannico. Mahmoud Reza Pahlavi prende il potere. È ancora un Re molto giovane e ovviamente inesperto. I primi anni del suo regno sono contraddistinti da una sorta di tutela da parte dell'impero britannico. Una tutela, potremmo dire, con gli interessi abbastanza pelosi. Gli interessi sono quelli del petrolio. Gli inglesi non sono ben disposti a lasciare gli interessi economici nella loro zona di influenza, perché d'altronde il petrolio diventa il nuovo motivo per controllare intere aree. È la risorsa numero uno cui tutti tendono, che interessa a tutti quanti. E quando iniziano gli anni 50 il popolo iraniano, nelle libere elezioni, elegge Mohamed Mossadegh come primo ministro, gli inglesi cominciano a preoccuparsi. Perché Mossadegh è un nazionalista. Non ama i comunisti, tant'è vero che inizialmente avversa il Tudè, il partito comunista iraniano, ma non ama nemmeno gli inglesi, al punto da promuovere l'uscita dal paese dei consiglieri militari, gli addestratori dell'esercito imperiale, e soprattutto la nazionalizzazione della compagnia locale di petrolio anglo-iraniana. È un qualcosa che suona come rivoluzionario. Mossadegh vuole attingere ai proventi del petrolio per modernizzare l'Iran. L'Iran è ancora un paese molto arretrato, fortemente agricolo, in cui larghi strati della popolazione vivono di poco, a volte muoiono di fame. E la popolazione delle grandi città rappresenta tutto sommato una minoranza. Mossadegh ha in mente un piano per cambiare il volto dell'Iran, ma cambiarlo in maniera soft, attingendo ai proventi del petrolio. Lo Shah Mohamed Reza Pahlavi inizialmente fa buon viso a cattivo gioco, si presta alla politica di Mossadegh, ma non è d'accordo. E come non sono d'accordo gli ambienti imperiali, non è d'accordo l'esercito, non è d'accordo il clero sciita. Con una scusa, quella di una vacanza a Roma, lo Shah parte per un breve esilio. Ufficialmente, appunto, è in vacanza. E Mossadegh è convinto inizialmente che la lontananza dello Shah possa permettere un'accelerazione del suo piano. Ma ha sbagliato i conti, perché in realtà la partenza dello Shah è parte di un piano, da parte di inglesi e americani, per rimettere lo Shah sul trono, estromettere Mossadegh, annullare la nazionalizzazione dell'Anglo-Iran Oil Company e prevenire mosse dei sovietici. Già, perché nell'ultimo periodo Mossadegh ha comunque accettato, anche se con riserva, l'appoggio del Tudè, il partito comunista iraniano. Ed è così che gli americani intervengono. Provocano dei tumulti, delle sommosse di piazza, che ovviamente sono finte. Ma è il motivo, il casus belli, per far intervenire l'esercito. L'esercito che è rimasto interamente fedele allo Shah. E quando interviene l'esercito, per sedare dei tumulti che in realtà non esistono, Mossadegh capisce di aver sbagliato tutto, di essere con le spalle al muro, in un angolo. Cerca rifugio, addirittura bussando la porta dell'ambasciata sovietica, che lo respinge. Il Tudè torna a essere messo completamente fuori legge. Mossadegh è arrestato, imprigionato, processato, condannato ai domiciliari e poi morirà, nella sua casa, parecchi anni dopo. Lo Shah ritorna, ritorna in pompa magna e da quel momento parte una nuova politica da parte dello Shah. Una politica in cui gli Stati Uniti d'America hanno un fortissimo peso. Un peso tale da considerare con il sempre più evidente ritiro dall'area medio orientale della Gran Bretagna. Pensiamo alla rivoluzione di Baghdad del 58 con la fine della dinastia scemita, ma prima ancora alla guerra del Sinai che si risolve in uno smacco per le vecchie potenze coloniali o all'avvento di Nasser o al tentativo di rivolta in Libano sempre nel 58. Ebbene, l'Iran da quel momento diventa il gendarme degli Stati Uniti nella zona del Golfo Persico. Un soldato armato fino ai denti perché, bombe atomiche a parte, l'Iran ha credito aperto con gli Stati Uniti per comprare qualunque tipo di armamento e compra l'Iran, compra molto, paga ovviamente in petrolio, compra aerei, compra cari armati, compra artiglieria di ultima generazione, compra missili, compra navi, compra tutto. Lo Shah sviluppa un esercito temutissimo, ben addestrato, armato fino ai denti che, nell'intenzione degli Stati Uniti deve servire non solo a tenere tranquilla la zona, ma anche a controllare quello che fanno i sovietici più a nord e a dissuaderli da cercare una strada verso l'oceano indiano. Ed effettivamente la strategia americana funziona. Funziona fino all'inizio degli anni 70. Perché cosa succede negli anni 70 in Iran? Non ci sono solo quelle celebrazioni faraoniche di cui oggi resta comunque traccia attraverso un grande arco monumentale ancora presente a Teheran. Magari qualcuno di voi l'ha visto in delle fotografie o forse guardando un film premiato agli Oscar come Argo di qualche anno fa. Non resta solo quello. Perché oltre alle grandi celebrazioni che costano una vera e propria fortuna impoverendo le casse dello Stato viene avviata una rivoluzione bianca. Così la chiama lo Shah in una famosa intervista rilasciata alla giornalista italiana Oriana Fallari. Lo Shah addirittura si vanta di questa rivoluzione bianca. Dice che è un qualcosa che non è mai stato visto prima non solo nel mondo medio orientale ma addirittura nel mondo occidentale. dice lo Shah di voler dare finalmente alle donne la possibilità di mostrare la loro femminilità quindi addio al velo e di farle entrare nell'università grazie anche all'appoggio della Shabanut sua moglie Faradiba che è una donna di grande spessore intellettuale e che ama la cultura appunto da promuovere le università le scuole straniere e le mostre culturali. Però al contempo le donne restano escluse dal voto. in Iran non c'è nemmeno la possibilità di pensare all'ingresso delle donne un ingresso attivo delle donne in politica lo scrutinio universale non esiste non solo a livello familiare le donne restano ancora sottomeste alla parte maschile della società in tema di diritto di famiglia e non solo anche per quello che riguarda le successioni testamentali quindi è una rivoluzione un po' strana questa rivoluzione bianca che dovrebbe modernizzare l'Iran è una rivoluzione che vuole improntare una società ancora molto molto agricola per farla trasformare in una società industriale facendo cosa? impiantando nuove fabbriche quindi promuovendo la migrazione dalle campagne verso le grandi città bene ma esistono tutti questi posti di lavoro? la risposta è negativa i contadini che si spostano migrano a sciami dalle campagne verso la città alla ricerca di una opportunità migliore di vita trovano solo più povertà perché l'altro grande paradosso della rivoluzione bianca è proprio questo teoricamente ci sarebbe lavoro per tutti in realtà non è così perché la rivoluzione bianca viene attuata a fasi ma sono fasi sconnesse tra loro per cui il contadino che molla tutto si trasferisce in città accede anche mutuo con la banca per comprare un appartamento in periferia si accorge improvvisamente che o non trova lavoro o il lavoro che ha trovato non basta per pagare il mutuo o per pagare gli studi perché è vero che l'università è aperta a tutti ma è molto costosa su un modello americano quindi la rivoluzione bianca porta solo tanta 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 povertà e poi c'è un altro aspetto della rivoluzione bianca che non piace il fatto di aver tolto il velo il fatto di aver illuso le donne di una emancipazione zoppicante ma comunque una parvenza di emancipazione non piace al clero sciita clero sciita che in quegli anni era stato almeno appunto fino agli anni 60 una delle due stampelle dell'impero assieme all'esercito l'imperatore a un certo punto comincia a far piazza pulita anche degli predicatori che sono più critici nei suoi confronti qualcuno ha anche tentato un golpe incruento all'interno delle stanze di palazzo ma la polizia politica la SAVAC è arrivata prima ha arrestato i responsabili e gli ispiratori sono dovuti fuggire all'estero uno di questi fugge prima a Najaf in Iraq dove c'è una fortissima comunità sciita e poi a Parigi dove in nome della dottrina Mitterrand ottiene asilo politico è un ayatollah una grande guida spirituale è un uomo dallo sguardo molto penetrante fa quasi spavento con quella folta barba e le altrettanto folte sopracciglia la barba che diventa sempre più bianca e le sopracciglia che si mantengono oscure il naso un po' adunco è uno sguardo appunto maniacale che fissa glaciale e la sua voce che si mantiene sempre ferma non lasciando presagire né rabbia né benevolenza quell'ayatollah ha un nome che diventerà molto molto famoso si chiama Rouola Comeini e da quando viene esiliato comincia a preparare la strada per il suo ritorno a dargli una mano è appunto la rivoluzione bianca quella rivoluzione che affamma il popolo e indispettisce il clero uscita lo indispettisce al punto tale che quando Jimmy Carter Jimmy Nocciolina il presidente Peanut l'ex coltivatore di arachidi che diventa l'uomo più potente del mondo si reca in visita per un capodanno a Teheran ebbene commette un errore gravissimo imitato dal suo padrone di casa Teheran resta comunque un paese musulmano musulmano shiita e il fatto che il presidente della Casa Bianca che è tradizionale reato dello Shah brindi davanti a tutti con dello champagne alla salute dello Shah e si dice che lo Shah abbia istituito il favore con un calice anche questo di una bevanda alcolica fa imbestialire gli iraniani più tradizionalisti e ovviamente il clero non bastasse la Savak ha passato il punto di non ritorno perché la Savak diventa il secondo puntello del regime dello Shah al posto del clero non ci sono più i sermoni dei mullah e degli imam a tenere buono il popolo anche perché pur lasciando aperte le madrasse la rivoluzione bianca non è stata indulgente nei confronti del clero anche qui con tante contraddizioni il clero facendo diventare l'iran uno stato laico forse per paura o forse per mantenere la porta aperta chi lo sa il fatto sta che il clero non apprezza e la Savak agisce in maniera repressiva sequestrando picchiando torturando a volte anche uccidendo si stimano in 7000 le vittime in pochi anni della polizia politica segreta iraniana ma fin qui si potrebbe dire che si tratta pur sempre di uno stato dittatoriale che si regge sulle armi e sulla paura nulla che non si sia mai visto prima pur con dei distinguo di carattere morale ma c'è qualcosa che cambia completamente la scena quel qualcosa che potrebbe sembrare qualcosa di accidentale o addirittura qualcosa di assurdo è l'incendio di un cinema il 19 agosto 1978 ad Abadam una grossa città un incendio di un cinema un incendio che poi si scoprirà di origine dolosa compie una strage nella sala del Rex muoiono circa 430 persone soffocate e poi arse vive è qualcosa di colossale qualcosa che scuote le coscienze le scuote al punto tale che iniziano le prime proteste ma chi è stato a dar fuoco a quel cinema perché è chiaro che l'incendio non è stato una disgrazia qualcuno mette in giro la voce che la strage sia stata compiuta dalla SAVAC perché nel cinema sarebbero stati presenti studenti e dirigenti di partiti clandestini già perché nel frattempo lo Shah ha anche avuto la bella pensata di mettere al bando qualunque partito politico gettando la maschera basta la storia di democrazia è una vera e propria dittatura la sua ma non è andata così al Rex è vero che c'è stato un incendio è vero che è stato doloso è vero che sono morte circa 430 persone ma erano 430 innocenti gente che non sapeva nulla di politica a dar fuoco al cinema sono stati i sostenitori dell'Ayatollah Khomeini hanno pensato che dando fuoco a quel cinema si potesse dare la stura a un movimento tale da far cadere lo Shah e hanno ragione hanno ragione perché le manifestazioni di piazza arrivano arrivano non subito ci vuole qualche settimana arrivano esattamente l'8 settembre del 78 circa tre settimane dopo il rogo disastroso del Rex e come reagisce la Savak in quel caso come reagirebbe qualunque forza di polizia repressiva con delle cariche con pestaggi con arresti sommari torture ed esecuzioni e tutto ciò esacerba ancora di più il clima che è già molto 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 pesante tra l'altro dopo il passaggio dell'esercito e della Savak in piazza emulano la bella pensata di mandare i ragazzini delle madrasse a cospargere le strade di paia di scarpe vi domanderete per quale motivo semplice per dare l'impressione soprattutto ai medi occidentali che riprendono tutto quanto che gli arresti non siano stati di qualche decina di persone ma di centinaia forse migliaia di persone insomma per accrescere sempre di più il numero delle proteste e di coloro i quali chiedono il ritorno di Khomeini e l'abdicazione di Muhammad Khayyat a Pahlavi a quel momento dall'8 settembre del 1978 per quattro mesi l'Iran non conosce più tregua non conosce tregua perché cosa succede? la sera al calar delle tenebre le urla di protesta gli slogan vengono ritmati dalla gente anche la gente che resta a casa si affaccia sulle terrazze sui tetti e comincia a urlare gli slogan slogan che arrivano dal clero slogan che sono contenuti anche in delle audiocassette che arrivano dalla Francia audiocassette dei discorsi di Khomeini che arrivano clandestinamente in Iran e che incitano alla rivolta al martirio se necessario la SAVAC reagisce inizialmente in maniera brutale di nuovo arresti fucilazioni torture parizioni a nulla ma le proteste montano sempre di più diventano incontrollabili l'esercito si chiude nelle proprie caserme e non osa mettere piede nelle strade per paura che i propri presidi vengano presi d'assalto dai manifestanti in pieno giorno e i militari vengano linciati lo Shah che inizialmente sottovaluta in maniera colpevole quello che sta avvenendo troppo tardi si risolve a provare a cambiare qualcosa allora cosa fa? chiama Shapur Bakhtiar chi è Shapur Bakhtiar? è un ex allievo di Mossadegh è un politico moderato non è nazionalista come il suo vecchio maestro potremmo chiamarlo un centrista e Bakhtiar capisce che la monarchia non è più salvabile però forse l'Iran può evitare di scivolare verso la teocrazia ha già capito che Bakhtiar ha già capito che il clero sciita vuole prendere il potere vuole defenestrare lo Shah per insediarsi al suo posto Bakhtiar le prova tutte cerca e ottiene almeno inizialmente la fedeltà dell'esercito poi chiede allo Shah di andarsene nuovamente in vacanza ma questa volta per sempre e il 16 gennaio del 1979 Mohamed Reza Pahlavi si mette ai comandi del jet Aquila Imperiale il suo aereo privato di stato e se ne va ufficialmente va in vacanza in Marocco in realtà parte per sempre i maligni dicono che Aquila Imperiale aveva talmente tanti lingotti d'oro in pancia da faticare a staccare il carrello dalla pista di decollo verità menzogna chi lo sa lo Shah tra l'altro è anche un uomo malato qualche anno prima ha scoperto di soffrire di tumore quindi questa finta vacanza gli serve anche per cercare delle cure cure che a un certo punto diventano assolutamente necessarie perché il cancro diventa molto aggressivo ed sarà fatale per lo Shah che morirà nel giro di poco più di un anno proprio di cancro invece l'Iran precipita sempre più nel caos l'esercito non rispetta il patto con Shapur Bakhtiar i comandanti preferiscono salvare la pelle sanno che ci sono delle liste di proscrizione in corso che appena Rolà Comeini scenderà dall'aereo perché tornerà loro saranno i primi della lista assieme agli ex ministri primi della lista per cosa? per il patibolo per le autogru che diventano lo strumento delle esecuzioni capitali in piazza Bakhtiar le prova tutte ripristina la libertà di culto riprista soprattutto la libertà di associazione e dei partiti niente da fare quando Comeini torna chiede anzi ordina che Bakhtiar lasci il potere che venga trasferito a un consiglio di saggi composto esclusivamente da altri aiatollari Bakhtiar deve scappare dall'Iran per tenersi la testa attaccata al collo come lui scappano in molti scappano agenti della SAVAC scappano alti gradi dell'esercito scappano uomini d'affari scappano ricchi borghesi tanti altri restano e piegano la testa a un nuovo padrone sempre che non si finisca in una delle liste degli squadroni della morte dei cosiddetti guardiani della rivoluzione il comitè quello che è il nucleo dei futuri Pasdaran c'è un ulteriore fatto da raccontare prima di chiudere questo nostro video ma molti di voi lo conosceranno già è l'episodio dell'ambasciata degli Stati Uniti a Teheran un'ambasciata che viene presa d'assalto dopo settimane di proteste a inizio novembre del 79 ossia quasi 11 mesi dopo l'addio dello Shah un'ambasciata che per regole internazionali e diplomatiche è un luogo inviolabile che gode dell'extraterritorialità cioè vuol dire che è territorio sovrano del paese che è titolare dell'ambasciata stessa anche nonostante fisicamente si trovi in uno stato estero viene assaltata dai giovani ma anche dal comitè il personale all'interno compresi in marisa protezione viene sequestrato il comitè chiede la consegna dello Shah morente di cancro in cambio di tutti i diplomatici e degli altri ostaggi questo perché perché i rivoluzionari iraniani temono che la mossa dello Shah la cosiddetta vacanza sia solo una ripetizione di quanto è avvenuto parecchi anni prima nel 53 con Mossadegh e quindi lo Shah si è andato via solo temporaneamente solo per organizzare il suo ritorno solo per chiedere aiuto agli americani solo per riunire gli ufficiali a lui fedeli e chiamare alla riscossa l'esercito è un braccio di ferro tra sordi tra il comitè è lo stesso comeini che assolutamente non sconfessa l'operato degli studenti e dei rivoluzionari e il dipartimento di stato degli stati uniti che in nome di una dottrina politica non intendono consegnare un ospite ex alleato morente di cancro per evitare di vedere crollare come tessere di un domino tutto il mosaico delle loro alleanze alla fine la crisi sarà risolta in via diplomatica attraverso l'operato anche di diplomatici di altri paesi come il Marocco il 20 gennaio del 1981 il giorno dell'insediamento alla Casa Bianca di un nuovo presidente Ronald Reagan sarà l'ultimo smacco della presidenza Carter una presidenza che nei confronti dell'Iran è protagonista in negativo di quel brindisi a capodanno dell'impossibilità di ottenere una liberazione pacifica degli ostaggi e dell'operazione Eagle Claw artiglio dell'Aquila il più grave smacco delle forze speciali degli Stati Uniti della Delta Force che si addestra per assaltare l'ex ambasciata ma compie un vero e proprio pasticcio nel deserto con propri uomini che muoiono nel rogo degli elicotteri esponendosi alle risate degli iraniani ma anche dei vicini sovietici uno smacco totale da quel momento in avanti da quando l'ambasciata viene assaltata e da quando i diplomatici vengono tenuti in ostaggio calerà il grande gelo tra l'ex gendarme statunitense in zona e quello che verrà chiamato il grande satana gli Stati Uniti d'America un grande gelo che vivrà varie stagioni alcune di parziale disgelo altre di freddo molto molto intenso e che ancora oggi nel 2022 permane questo grande gelo un gelo che a volte fa temere il peggio fa temere l'improvvisa esontazione della rivoluzione islamica quindi un Medio Oriente messo a ferro e fuoco dagli sciiti o l'intervento americano o addirittura l'intervento russo e in questi giorni con la guerra in Ucraina è ancora più temibile o addirittura una guerra nucleare perché nel frattempo l'Iran si è dotato anche della potenza nucleare un mosaico molto molto complesso complicato un cubo di Rubik difficile da risolvere anche se è notizia di questi giorni la Shabanut Faradiba la vedova dell'ultimo Shah si augura che prima o poi gli iraniani possano cambiare nuovamente idea se non restaurare il trono almeno recuperare soprattutto grazie alla voglia delle generazioni più giovani quella democrazia che in fondo quel paese non ha mai conosciuto veramente